Tira Roberto, tira! Che onde? Sono piccolissime, però possono saltare, sono piccole, guarda avanti, e lo so, ci sono i marroni, anche quelle giganti, sono piccolissime, perché sono piccolissime. C'era l'ultimo che non c'erano. Dove? A San Montano. A San Montano. E dove? No, via la gara. Perciò salito? Anni? 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 Canna? Sì, sì, sì.